Allora, conferenza stampa di Gianni Amelio, che non vi presento, portato anche la filmografia per sicurezza, che è qui addirittura io direi quasi in triplice veste, perché come sapete è uno dei testimoni, dei protagonisti di Colpiti al Cuore, di Alessandro Bignami, che è passato al pubblico ieri e a voi probabilmente l'altro ieri, in quanto uno degli autori, dei pochi autori tra l'altro, dei pochi film che ci sono stati, grazie Federico Pedroni, a servizio al tavolo, grazie, 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 scusate, 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 dei pochi film che ci sono stati sul tema degli anni di piombo del terrorismo e Gianni era uno dei testimoni del film, essendo direi, insieme a Marco Tullio, direi uno dei primi che ha affrontato l'argomento. quindi è qui in veste di protagonista, tra i protagonisti di Colpiti al Cuore, è in veste di autore, di Colpire al Cuore, che come da comunicato stampa che vi abbiamo fatto, è il film che ha sostituito il restauro dei ladro di bambini che per motivi tecnici non è stato terminato in tempo e per cui insieme a Gianni abbiamo pensato che il film perfetto fosse questa appunto copia nuova di Colpiti al Cuore perché è perfettamente in tema, oltre al fatto che a me piace molto, è perfettamente in tema con quello di cui si parlava nell'altro film. e poi c'è una terza funzione che gli ho strappato e lui è molto contento. Stasera consegnerà insieme a me il Gran Premio Torino a Barbara Steele perché oltre ad autore e tutto il resto Gianni Ameglio, come certamente sapete, è un grande cinefil, grande esperto anche, un po' perché ci ha partecipato e un po' per passione, del cinema italiano di quegli anni anche quello dei generi e di serie B, è un grande riscopritore di film di quell'epoca. Quindi, e qui in triplice funzione, se ci sono subito delle domande, altrimenti cominciamo a chiacchierare noi due. Scommetto che le domande saranno su un argomento che tu non hai nominato ancora. Ecco, no, c'è una cosa nella quale non si può fare domande, no? Non si fanno domande. Ecco, chiedete quello che volete. Ma non perché non voglio io rispondere. Non vuole, non è lui che non vuole, è che non si può perché devo... Chiedete quello che volete. C'è quella signora là che mi uccide. No, infatti io ho ancora nominato qui. Adesso il nome... Dato che è venuta accompagnata anche... Sì, sì, ma la signora e il signore me lo impediscono. Sono venuti apposta da Roma, sono seduti là per impedirmi di parlare. Chiedete quello che volete. Non nominate neanche a Mamette. No, no, no. E così siamo a posto. Nominate a Mamette, però fermiamoci là. Ieri nel documentario di Bignami una delle dichiarazioni è il film mi faceva paura, mi faceva paura realizzarlo. Se vuole aggiungere qualcosa su questo. Potrei scrivere un libro sul terrore che avevo dell'argomento di non essere all'altezza di decifrare quel momento storico che vivevamo. Tu non eri nata, però si respirava un'aria pesante. E io il film l'ho realizzato mentre accadevano le cose. Quasi mai succede di essere testimoni di un evento storico doloroso e di rappresentarlo nello stesso tempo. Allora, la paura qual è? Quella di non saper leggere le cose. Tant'è vero che poi quando il film è stato presentato a Venezia ci sono stati molti equivoci. Dal momento che noi viviamo nel paese di Coppie e Bartali o se vogliamo restare in argomento di Loren Lollobrigida si sono divisi gli spettatori e i critici tra il padre e il figlio. Qualcuno ha detto il film è dalla parte del padre qualcun altro ha detto no è dalla parte del figlio. ovviamente sono interpretazioni tutte un po' da rivedere non dico sbagliate ma lo penso perché è un regista quando fa un film o un romanziere quando scrive un libro eccetera eccetera ha necessità di mettersi nei panni di tutti i personaggi cioè per il regista non ci devono essere buoni e cattivi ma ci devono essere le ragioni dei cosiddetti buoni o dei cosiddetti cattivi cioè il regista deve scavare nei sentimenti dei personaggi poi spetta al pubblico se vuole dare un giudizio la difficoltà e quindi la mia paura era il fatto che io giravo in contemporanea con le cose che accadevano è successo due volte eravamo a Milano che io girassi una scena con dei morti dei feriti cioè scene di attentati e l'attentato era avvenuto due giorni prima oppure in un caso è avvenuto la settimana dopo allora a quel punto qual era la mia paura di non saper come ho detto prima di non saper decifrare le cose è stato un film molto scritto forse è stata la sceneggiatura più complessa che io ho scritto insieme a Vincenzo Cerami che mi ha dato una collaborazione enorme però poi quando sono arrivato a girare era passato molto tempo dal momento della sceneggiatura perché per ragioni che succedono economiche il film è stato rimandato di un anno cioè il film sarebbe uscito se io l'avessi fatto nel 1981 sarebbe andato penso una Venezia strana sarebbe stata per gli italiani perché mi ricordo quell'anno c'erano la caduta degli angeli ribelli di Giordana Piso Pisello di Del Monte Sogni d'Oro di Muretti e poi il quarto italiano era Piscicelli con le occasioni di Rosa sarei stato il quinto italiano con Colpire al Cuore l'anno in cui vinse anni di piombo anni di piombo tant'è vero che ogni dato che sono amico di Margarete Fontrotta per via degli EFA ne ho 23 a Berlino quindi ogni volta lei era presente gli ho detto guarda che tu non sei stata la prima eravamo due primi e sfortunatamente io sono arrivato un anno dopo e chissà cosa sarebbe successo no avrebbe vinto lei perché il film mio a Venezia è stato vabbè insomma ha avuto un destino strano sembrerebbero dei pettegolezzi le cose che dovrei dire no quindi non le dico praticamente il film fino al giorno prima aveva vinto il premio speciale della giuria e il giorno dopo no cioè fino a quando c'è stata la ultima riunione della giuria aveva vinto e poi invece è cambiato qualcosa in corso mi è capitato due volte questo nella storia di Venezia come? la seconda volta è stato con l'America l'America aveva vinto un premio ignobile secondo me perché non si premia un film per la migliore fotografia cioè non esiste cioè con tutto il rispetto mio figlio fa il direttore della fotografia quindi immaginate quanto io tenga alla fotografia ma non separata dal film non esiste esiste un premio alla fotografia se c'è anche qualcos'altro che riconosce il valore il peso del film e hanno dato all'America il premio per la miglior fotografia e si è arrabbiato un solo giurato si è alzato e nella sua lingua che nessuno capiva ha fatto una scenata era Nagisa Oshima e Nagisa Oshima ha detto se c'è un premio da dargli è quello per la regia e mi hanno dato un premio per la regia scusa chi ha vinto quell'anno ha vinto no quell'anno diciamo che ha vinto beh ha vinto la laguna probabilmente nel senso che c'è stata una battuta formidabile della nostra amica oddio mio l'invecchiamento Lietta Lietta ha scritto una cosa vi devo dire quello che precede i film erano 22 in concorso ne sono stati premiati 19 perché hanno dato premi mi ex equo a tutti e la Tornaboni ha scritto 19 premiati su 22 gli altri tre sono morti in laguna suicidi quindi avrà vinto la laguna cioè erano c'era un presidente di giuria io me lo ricordo molto bene che era distratto grandissimo regista uno dei più grandi di registi viventi fra l'altro nato nel mio stesso giorno io sono nato il 20 gennaio di un anno che non so e chi è nato il 20 gennaio Fellini e chi è nato il 20 gennaio David Lynch che per me è un dio per chi no? sì ecco Blue Velvet è uno dei vertici del capolavoro però come presidente di giuria pensava ad altro era distratto non gli interessava quello che vedeva lincianamente distratto lincianamente distratto mentre c'era un giovane molto agguerrito che essendo giovane ed essendo anche ex caillè è arrivato con tutta Olivier Olivier c'era Olivier Assayas che giustamente io ero con lui perché ci conoscevamo lui mi ha anche detto che il film mio diciamo non gli era tanto piaciuto laddove invece lui aveva amato alla follia colpire il cuore lui ha scritto il pezzo più bello su colpire il cuore mai pubblicato al mondo incredibile di acutezza e di finezza armato quindi dell'entusiasmo di colpire il cuore diciamo anche aveva amato anche il ladro di bambini l'America lo ha un po' disturbato in alcune cose però lui si è battuto perché vincesse Vive l'amour che io considero un film straordinario era poi l'uscita diciamo per il pubblico la vera la vera sorpresa perché Tsai Mingliang era conosciuto da due persone poi era il suo primo lungo metraggio però era un film è un film Vive l'amour talmente estremo a livello di linguaggio che non poteva mettere d'accordo tutti le duemila persone della giuria e si sono formati due partiti un partito vabbè non dico perché per me è un imbecille ha fatto sì che si spartissero i premi cioè la parte della giuria guidata da Olivier ha premiato alcuni film e gli altri hanno voluto a fianco inevitabile un altro film quindi ci sono stati questi 19 premi pazzesco mai successo alla mostra di Venezia mai vabbè e adesso invece di fare la storia della mostra di Venezia parliamo di noi che dobbiamo dire come scusa sì 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 è così affascinante quando parli che ha il cinema ti chiedevo che cosa facevi nel 92 nel 93 in quegli anni là che cosa facevo come vivevi vivevi in questo paese cioè che ricordi hai di quegli anni stavi pensando a qualche film stavi lavorando come ricordi quei due anni là nel 92 stavo facendo colpire il cuore quindi io tutto il 91 io l'ho passato anzi ho cominciato nel 90 a scrivere colpire il cuore perché devi sapere che io nell'89 ho fatto Porte Aperte e nel 90 sono stato candidato all'Oscar per Porte Aperte ma non ci sono andato perché l'Oscar non è che non lo voglio datemelo che me lo diano però me lo portino a casa come ha detto la Magnani la Magnani gliel'hanno portata a casa poi anche insomma Piero Tosi più grande costumista dell'universo mondo ha visto i suoi allievi essere premiati prima di lui e poi una sua allieva probabilmente la più celebre Milena Canonero ha fatto sì che gli dessero un Oscar alla carriera che però adesso è diventato come contentino qualcosa di nascosto cioè insomma se uno deve avere l'Oscar almeno deve andare lì no? farsi vedere dal mondo che senso ha fare in una stanza d'albergo magari una consegna a brevi mano come mafiosi dice scusa prenditi quest'Oscar ma non lo dire a nessuno per favore cioè però io non ci tengo e non ci tesi mai perché secondo me l'Oscar ti cambia un po' la visione delle cose cioè porta male porta male sì 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 porta male insomma se facciamo l'elenco di quelli che hanno vinto non italiani per carità di Dio cioè in generale un attore che vince l'Oscar cerca ruoli da Oscar un regista che vince l'Oscar vuole copioni da Oscar e perde la genuinità in qualche modo no cioè quando uno vince il premio più importante dell'industria cinematografica perché non è un premio non è il premio in assoluto più importante è il premio dell'industria cinematografica il premio che l'industria dà a se stessa quindi dopo devi essere all'altezza perché l'industria viene da te e ti dice ah esisti esisti a me addirittura mi hanno riconosciuto l'esistenza anche con una semplice candidatura mi hanno offerto delle cose che io ho rifiutato ma non perché ero snob sono snob ma non tanto scusate ho dimenticato di c'è un mio amico che si è sposato da poco la cosa non avrebbe nessun interesse se questo mio amico non si fosse sposato con il suo compagno ed è il mio medico scusate è bello perché vabbè questa è una storia più bella di quella che stavo raccontando cioè un medico bravissimo che mi ha curato tutta la vita e del quale io non mi sono mai occupato privatamente nel senso che io non sapevo che fosse come dice una signora gheo perché c'è una signora che conosco che dice ma gay sono un gheo più un gheo più un gheo più un gheo sono gay plurale quello è un gheo gheo in gheo allora questo medico bravissimo fra l'altro mi ha curato ha curato anche la mia famiglia eccetera un giorno si imbatte in un mio romanzo che si chiama Politeama nel romanzo è raccontata una certa storia lui praticamente insomma era sulla via di Damasco e vede qualcosa e mi telefona piangendo e mi dice beh insomma hai raccontato un po' la mia storia io ti sono grato e da lì si è liberato ma da pochi anni cioè saranno Politeama con te nove anni fa otto anni fa si è fidanzato e sono sposati la settimana scorsa io gli ho fatto un regalo devo dire al di sopra delle mie possibilità giuro ma veramente un grosso grande enorme regalo e lui mi sta ringraziando penso quindi mi telefona per ringraziare chiusa la parentesi torniamo che cosa facevo allora io avevo fatto Porte Aperte che è un film che ha girato il mondo è andato e l'avevo fatto nell'89 ma è uscito nel 90 accompagnato in tutto il mondo verso la fine del 90 io ho scritto la sceneggiatura di Colpire al Cuore no che sto facendo no non sto dicendo no 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 sto facendo una confusione della Madonna perché io dato che l'82 è Colpire al Cuore quindi ma nel 92 io so dove vuole arrivare dove vuole arrivare lei perché lei vuole arrivare ad Amamet e se vuole ci andiamo insieme prendiamo un aereo e andiamo insieme ad Amamet ce lo paga ce lo pagate voi due ce lo pagate voi due perché vede io dalla domanda sua ho fatto due più due però sono stato sul terreno di Colpire al Cuore quindi io per me quando lei diceva 92 io capivo 82 82 92 cosa facevo? Giravo il ladro di bambini il ladro di bambini è andato poi a Cannes nel 93 quindi io l'ho girato primavera estate e poi si è interrotto per via che tutti i filmi di Rizzoli si interrompevano poi vi spiego perché e poi l'anno dopo è andato a Cannes poi ho avuto successo eccetera eccetera e che facevo? io facevo un film nel quale molti hanno letto una metafora di mani pulite pensate un po' cioè che io parlavo a suocera perché intendesse nuora raccontavo apparentemente una piccola storia privata di due bambini diciamo gli ultimi del mondo accompagnati da un terzo bambino cresciuto ma pure lui tra gli ultimi della terra che attraversavano il bel paese che tanto bello non era che era un paese scosso dal terremoto che noi sappiamo e quindi quel film non è un film di testa per carità io non è che mentre giravo non ho mai fatto film di testa cioè ho fatto film di panna di pancia vorrei aver fatto dei film di pancia qualche volta magari ma secondo me il ladro è proprio tanto di cuore sì 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 forse il ladro è il film più di cuore che ho fatto tant'è vero che una volta l'ho detto davanti ad Aristarco che mi ha tolto il saluto certo mi è venuta in mente una cosa mentre chiacchieravate di questo lo rifaresti io non credi che sarebbe interessante non tu in generale dico oggi fare un viaggio analogo riparo un film un viaggio analogo di quello dell'altro ma sarebbe una roba pazzesca ma voi non sapete cosa è successo l'anno dopo nel 93 sono andato io accompagnavo il film e sono andato in Australia perché il film in Australia ha avuto una roba a Sydney un professore di scuola media ha dato agli alunni della sua classe terza media un tema secondo te che cosa succederà a questi bambini e a questo carabiniere dopo dal giorno dopo in poi voi siete liberi di immaginare una storia ma veramente all'epoca non si parlava di serialità però vi giuro che se il film fosse uscito oggi forse qualcuno Sky o Amazon o qualcuno che magari non ricordo adesso come nome e cognome mi avrebbe proposto di raccontare qualcosa di più perché il finale è sospeso come si ricorda lei i due bambini entreranno in un istituto lui dormiva chissà se dormiva o faceva o faceva finta eccetera e devo dire che hanno scritto dei temi che erano già dei grandi soggetti ce n'era uno il primo che mi viene in mente nel collegio diciamo così dove i due bambini sono ricoverati una sera il bambino vede alla televisione un incidente accaduto a Milano e riconosce un carabiniere ferito che è lui Antonio e allora lui scappa dal collegio e rifà il viaggio praticamente all'opposto cioè partendo da Gela e arrivando a Milano per arrivare a vedere come sta e allora c'era io quando ho letto il tema ho detto no il finale non lo girerò mai così perché lui arriva e non fa in tempo a parlarci col carabiniere perché è morto e io non sono per questi finali qua cioè il raggio di sole ci deve essere e per me dovevano incontrarsi e dovevano riprendere quella mano che si erano dati nella nella trattoria sul mare ma 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 se vogliamo colpire era un altro che aveva il finalone aperto colpire al cuore volendo era talmente aperto il finale che si aprì una discussione tra le tante discussioni sciocche sul fatto che il ragazzo facesse praticamente tutto quel sotterraneo che mi pare che fosse una un garage c'erano delle macchine eccetera e poi c'era una strada e dove svolta il ragazzo secondo voi va verso destra o va verso sinistra io sentivo le discussioni e c'è ci fu una discussione eccellente cioè tenuta da un grande regista che ahimè non c'è più il quale grande regista diceva ad altri sceneggiatori registi cioè tutta gente di peso vedete però alla fine il ragazzo va a sinistra perché ecco era un finale apertissimo quello là però poi lui andava a sinistra chissà perché io l'ho fatto andare a sinistra perché da qualche parte doveva pure andare e quindi dico vai di là ma ecco quando poi ci sono queste interpretazioni io non sono contro perché i film sono anche fatti anzi soprattutto fatti perché poi lo spettatore legga cose che il regista non ha immaginato non ci ha messo volontariamente dentro perché poi ci sono tante cose dentro i film e le più belle sono i lapsus sono quelle cose che ti vengono senza che tu te ne accorga e i film dove c'è un mistero più spieghi meno racconti secondo me cioè io potrei fare titoli di miei film che io amo meno di altri ma proprio i film dove io ho per tante ragioni qualche volta anche per fare il buono per dire di sì a un produttore per non fare quello che poi non incassa eccetera 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 sono stato generoso di spiegazioni sono i film che amo di meno vi ricordo qual è il film che amo di più l'ho girato tutto a Torino ed è un film che pochi hanno capito perché era un film costruito sulle assenze addirittura era un film che andava di anno in anno raccontando una sola giornata e quando si passava da un capitolo all'altro lo spettatore doveva fare un piccolo sforzo per capire che cosa fosse successo ai due protagonisti nell'anno che io non facevo vedere quindi insomma è quello il film che io penso mi rappresenti di più sono d'accordo sei d'accordo sono d'accordo bene abbiamo pochissimo tempo il suo rapporto col Torino Film Festival col Torino Film Festival cioè allora parliamo intanto di me spettatore di Torino Film Festival perché io ci sono venuto negli anni insomma credo al secondo terzo quarto Torino Film Festival sono venuto due anni come spettatore facendomi ospitare da un amico che non era torinese ma era oriundo come me cioè era uno del mio paese che si era trasferito a Torino con mia nonna che mi diceva tu in quella città non ci devi mai più tornare per ragioni sue perché ed erano ragioni importanti poi sono venuto una volta in giuria e il direttore era Barbera e mi ricordo abbiamo premiato un film bellissimo molto 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 bello e poi ho molto invidiato Nanni Moretti proprio in genere lo invidio quasi sempre io ho una stima immensa di Moretti e quindi poi vedere che faceva anche il direttore del Fessual di Torino insomma e poi c'era la signora che ho alla mia sinistra e che vorrei invece alla mia destra perché in realtà penso che lo stesso Moretti lo riconosca non so se lo riconosce anche il regista che c'è stato dopo di me io sono stato quattro anni ma in realtà in realtà io non ho diretto da solo il Fessual di Torino ma l'abbiamo diretto in due cioè per tante ragioni la signora Emanuela Martini firmava vice direttore però eravamo co-direttori cioè la cosa più giusta sarebbe stata in ordine alfabetico tu ti sei fatto chiamare Amelio apposta io mi sono fatto chiamare Amelio apposta per fregare Emanuela Martini al Fessual di Torino no da qualsiasi cast credit tutto 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 a meno che non mi capi di Altman certe volte funziona anche l'ultimo Monica Vitti si è fatta chiamare Vitti per arrivare alla fine ed essere ricordata di più però quindi o la A o la Z in qualche modo però insomma si può dire il lavoro che faceva Emanuela Martini allora quando c'eravamo i vari registi era lo stesso che fa oggi quindi era un lavoro da direttore e quindi litigavamo spesso anche in modo fruttuoso diciamo erano erano discussioni non erano litigate si si discuteva e mi ricordo che il primo anno quando abbiamo reimpostato l'organizzazione l'organigramma si dice come si dice cioè la struttura del festival eravamo d'accordo in tutto e ci siamo inventati insieme festa mobile mi ricordo che eravamo sempre d'accordo sulle retrospettive mi ricordo quando io ho proposto Cagneschi che è una mia passione e lei ha inventato quello che poi ha lanciato nel mondo perché a Torino il tuo amichetto Nicolás è esploso da Torino cioè quello è stato un anno fondamentale il primo anno che abbiamo diretto insieme che poi ci ha dettato la linea per gli altri tre che ho fatto vale a dire che io non mi sono mai sentito direttore e non ho mai considerato Emanuela Martini vice direttore eravamo tutte e due avendo anche un'amicizia da anni che risaliva addirittura al festival di Bergamo di molti anni prima eccetera l'abbiamo diretto insieme l'abbiamo diretto insieme e questa è la risposta l'ultima velocissima poi no avevi detto che potevo darti del tutto tanti anni fa ma adesso vedo che mi dai del lei per cui ti ridò del lei anch'io allora maestro volevo chiederle pensando anche proprio alla sua filmografia anche a questo film di cui parlava prima ma di tanti altri lei pensa già a un determinato attore quando scrive cioè ce l'ha già in mente oppure l'attore perché è determinante il protagonista in molti dei suoi film e poi se un produttore l'è mai imposto invece un attore se qualcuno le impone di scegliere un determinato attore del quale lei non è convinto come si comporta grazie dunque no è una domanda molto giusta e la risposta è molto sincera cioè in un caso un caso solo io ho aspettato un attore per sei mesi ed è il caso dell'ultimo film Hamamette io non l'avrei mai mai fatto senza Pierfrancesco Favino e quindi l'ho scritto per lui pensando a lui e poi ho saputo da lui dispiaciuto che si doveva dividere perché era in contemporanea il film di Marco Bellocchio che fra l'altro sarà il produttore del mio prossimo film è cosa bellissima sì sì è una cosa che mi fascina molto titolo no non si sa ancora no non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo no comunque dicevo Favino mi dice Gianni adesso ieri Bellocchio mi ha detto che mi avrebbe scelto per il suo film perché Bellocchio ha fatto un provino anzi tanti provini e il provino come si dice lo ha vinto Favino io l'avevo preso a scatola non chiusa ma proprio serrata e l'ho aspettato e ho detto al produttore non si fa il film se non c'è questo attore questo in senso positivo in senso invece negativo il ladro di bambini il ladro di bambini doveva farlo banderas e io con tutte le mie forze dicevo di no e ho scoperto con un minimo di furbizia quale sarebbe stata la maniera giusta per far sì che banderas non facesse il ladro di bambini cioè dirgli che proprio non lo volevo e allora non che gli arrivasse da altri ma da me direttamente per cui io ho accettato di andare a Barcellona no no a Madrid a incontrarlo a cena poi leggere il copione insieme e tutto quanto e gli ho detto ma tu non c'entri nulla se vogliamo se vuole il produttore spostiamo tutto il racconto in Spagna prendiamo due bambini spagnoli raccontiamo questa storia in Spagna io per fortuna lo spagnolo lo parlo molto bene e facciamo un film spagnolo ma se il film deve essere italiano tu non c'entri non perché non sei bravo ma perché non ti vedo non ti sento parlare spagnolo mentre due bambini siciliani parlano il loro dialetto e lui mi dice no lo imparo lo imparo ma cosa impari e poi siamo rimasti in buonissimi rapporti però c'è stata una presa di posizione feroce del produttore che mi dice va bene tu lo vuoi fare con uno sconosciuto lo farai a bassissimo costo lo farai con la metà dei soldi che avevamo stabilito per il film e io l'ho fatto adesso vi dico una cosa che nessuno sa sapete chi era candidato e invece io l'avrei voluto ma avremmo dovuto cambiare delle cose sul copione Massimo Troisi Massimo Troisi non l'ho scelto io mi ha scelto lui perché il film era prodotto da Rizzoli e Rizzoli aveva un avvocato questo avvocato vede il copione sul tavolo di Rizzoli si incuriosisce Rizzoli gli dice in due parole di che trattava e lui lo porta senza dire niente a nessuno lo porta a Troisi io ricevo una telefonata da Troisi alle 11 di sera che mi dice ho letto una storia bellissima voglio farla vediamoci ho visto lui aveva un ufficio ancora nemmeno arredato una cosa di uno squallore incredibile con una lampadina nuda che pendeva dal soffitto e un tavolino di plastico una cosa e lui mi dice è bella in napoletano io non lo so fare la lingua è una napoletana mia estranea e io dico beh Massimo Troisi ma chi ti dice ma come posso dire di no solo che bisogna adattarlo a te perché tu sei hai una cultura che non è quella prevista dal personaggio e lui mi ha detto lavoriamoci insieme da domani sì c'è Chigori col quale lui aveva un contratto gliel'ha proibito perché voleva il film di Natale non voleva un film impegnato e lui tant'è vero che ha fatto volevo credevo fosse amore invece era un calesse e poi cosa è successo è uscito il film dicevo sempre una telefonata questa volta alla segreteria telefonica perché non ero a casa ed era Massimo che mi diceva come sono contento di non aver fatto questo film ma non perché non l'ho amato l'ho amato tanto ma l'attore giusto l'hai trovato tu e se l'avessi fatto io avrebbero detto beh insomma ci ha messo mano Massimo Troisi invece adesso il film è solo tuo bene grazie 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 a tutti.